Incroci di incroci, è vero! Chi è l'amichetto? Sì? Cammini con l'amichetto? Sì? Ciao! Ciao amore! Ciao musone! E quella zampa? Si mette in semplice! Seduto! No, adesso il comando no! Non ti piace? Vediamo! Seduto, bravo! Prendi! Non lo vuole! Questo non è più seduto però! Sì! La prossima volta la porti più se te lo prometto! Seduto! Lo lecca, è un gelato! Non lo so se prenderlo oppure no! Fai vedere gli occhi quanto sono belli! Ho questi occhi bellissimi! i castani ma sono luminosissimi! Ui! Non lo vuole! Provai gli altri biscotti e vediamo se ti piace la pizza! Ma non te lo mangi! Fa finta! Secondo me la consistenza non lo convince! Ma che cosa è questa cosa? Io non li mangio mai i biscotti! E' vero! E' vero! E' vero! E' gigione! E' vero! Sì! Che c'è? Comunque c'è la pallina qua da qualche parte! Vedi se gioca! E' Rambo! Rambo? Beh ma non conosce il nome! Sì! Adesso è per noi! Che cos'è? Com'è bella! Non ci devo capire! Non lo so se mi piace! Ci devo conoscere! Per il momento mi... Mi sdraio? Mi spalmo a terra! Per il momento! Lì l'abbiamo chiamato così anche per questo! Si stende oltre il pelo militare, mimetico! Vedi se si mette sedito! Andiamo con la pallina! Ehi! Vieni qua! Saranno i cani sui? Sì sì! No no! Sempre il canile! Si allunga fino il nome! E' grandissimo! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Ma così l'hai fotografato! Cioè a me fa morire! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Cioè sta... Tutti così? Sì! No! Assolutamente! No ma... Non si può proprio come tempo! Cioè... No voglio dire... Per esempio... Un'altra cosa! Un'altra cosa! Un'altra cosa! Un'altra cosa! Un'altra cosa! Ma hai visto come camminava? Tipo militare! No, non l'ho visto! Stai strisciando! Stai cercando di fargli le foto in primo piano capito? Mh! Perché è molto bella là! Eccolo! Di nuovo! Adesso si mette così! Eccolo! 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 A dare questo primo piano! Si è castrato! Sto davanti a te Claudia? Che cosa? No no! Sono io che mi sono messa dietro per farlo guardare di qua! Ok ok! Guarda qua! Ti voglio fare questa faccione da p*** proprio! Sei bellissimo! Io poi ti adoro tigrati! Io ti voglio fare questa faccione da p*** proprio! Sei bellissimi quei tigrati! Vedi più belli! Forse anche più belli dei miei! Non lo so! Ci devo pensare! Vai! Bello! Eccola! Piano piano! Ciao amore! Vedi? Guarda l'ho vista! Che c'è? Amore! Fatti vedere come sei bello! Prova con la pallina! Vedi a abbracciare zia Claudia! Vai! Coccolone scodinzolone lui! Stai caldo! Come si mette! Quanto è bello! Vedi! Come è bello questo ragazzone! Sei bellissimo! Vieni qua, vieni! 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 Qua si stende di nuovo! Guarda come si mette! Ti piace l'erba? si è bella l'erba è bella ecco qua bene bene ti stai sporcando per bene si scadinzolone tu non cammini strisci tu strisci mi hai fatto prima il video quando si siede si ok guarda me è perché sta facendo le foto hai ragione devi guardare l'obiettivo 1,2,3 no non l'ha vista l'ha trovata bravo bravissimo 1,2 e e e e 3 1,2,3 3 8 9 9 10 10 10 11 11 12 14 15 15